Buongiorno, sono Raffaella Gaminara, Unit Manager Runstad Italia S.P.A. Siamo in questo bellissimo contesto, in questo bellissimo evento, per incontrare tutti i profili che riguardano la Blue Economy. Runstad è una multinazionale olandese e siamo in primis un'agenzia per il lavoro, ma offriamo soluzioni ad aziende e candidati in tutti i settori possibili quindi ci proponiamo proprio come partner a 360 gradi di aziende e candidati. Quindi il nostro interesse, partecipando a questo evento, tra l'altro ringrazio moltissimo il Job Center che ci ha invitato, abbiamo l'intenzione di farci conoscere appunto da candidati che possono essere interessati alle nostre offerte di lavoro, ma anche ovviamente dalle aziende del settore. Candidati che possono essere di nostro interesse sono praticamente tutti i candidati che orbitano all'interno della Blue Economy, quindi parliamo di settore spedizioni, parliamo di import export, parliamo non di operatori perché ci sono i nostri colleghi in tempo che sono specializzati nell'ambito, ma comunque qualunque tipo di candidato che possa essere interessante per le aziende del settore. Questo è tutto, vi ringrazio e buon lavoro.